Giovanni Battista Piazzetta In vero a Bologna si esercitò nella bottega di Giuseppe Maria Crespi, considerato un rinnovatore della scuola Felsinea. Il soggiorno fu breve, ma con gran profitto. Nel 1711 si trova iscritto nella fraglia dei pittori veneziani. Artisticamente nacque Naturalista, assecondando la levatrice veneziana del tardo Seicento. Crespi lo svezzò con il chiaroscuro, avvicinandolo alla vena popolare schietta e sensuale. In Ercole e Onfale si cimenta in un chiaroscuro nervoso, squilibrato nelle masse troppo a terra, rocciose. Le due figure a destra, dietro alberi scheletrici, paiono fantasmi, così come l'opera svanita in una qualche collezione americana privata. Ad un privato tedesco è finita Susanna e di vecchioni, un ovale che stride con la spigolosità delle mani, dei volti, dei begliardi. Susanna è Onfale, che ha cambiato aspetto. La modella è la stessa, è il candore dell'ampio giovane seno a natura marmore. Nel sacrificio di Isacco, i colori sono ridotti ad una scala di bruni per cui conservano il bianco e nero, che ci consente una migliore analisi delle forme illuminate. Isacco è di un disegno tormentato, Abramo credibile, e l'angelo è lo stereotipo di Susanna, che ritroviamo in quello degli uffizi con i vecchi che sembrano allo specchio. La mano sinistra di lei pare essere d'altra persona e la coscia destra mostra un'improvida cellulite. Il supplizio per cercare di trovare un equilibrio deve essere stato quello di San Jacopo. Doveva liberarsi dall'agitazione del Tintoretto, dal naturalismo del Tiziano, dal chiaroscuro di Crespi, emulo del Caravaggio. E con la contadina, con il cesto di rape, finalmente riesce. Un ovale nell'ovale. La ragazza ripresa dall'alto, fotograficamente, in un momento di pausa, mostra con delicatezza le sue dolcezze. Sarà con la contadina che si spulcia, che troviamo il colore del rosato del volto, più intenso sulle labbra, e il rosso del nastro, che le raccoglie i capelli. Un appunto ci vuole muovere. La spalla sinistra della modella, quella coperta, non incontra la curvatura dell'altra. Nel 1720, con il ritratto della pittrice Giulia Lama, Piazzetta trova quiete, ed al chiaroscuro drammatico, la luce radente esalta la serenità plastica del ritratto. Il volto è dolce, e intenta a guardarsi allo specchio. Sta realizzando il suo autoritratto, e con lei, Piazzetta, dipinge il suo ritratto d'artista, che esce dall'ombra. Non indossa orpelli, nastri, orecchini, collane. Sta lavorando in sobrietà. Il manto damascato rivela un benessere che le consente di commissionare l'opera ad un pittore che, cercando più se stesso che la moneta, morirà in povertà. Osservando l'angelo custode e la madonna, il movimento a zigzag, dall'afflitto in terra agli angioletti in volo, non turba l'equilibrio dell'insieme, ed i colori s'allargano di gamma, persino il lapislazzulo nel cielo. Il racconto è insolito. Dal fuoco del peccato, un redento cerca di uscire aggrappandosi alla roccia. Grande è lo sforzo per vincere le umane debolezze, ma l'angelo l'aiuta, anzi, l'ha già fatto, ed il salvato lo ringrazia inginocchiandosi sui piedi. Il buon custode, da solo, non sarebbe riuscito nell'impresa. L'intercessione di Maria sul figlio è stata necessaria e nel finale, lieto in cielo, ci si rallegra. Nell'insieme, una verosimile ripresa cinematografica. In tal senso, osiamo dire che questo pittore in ombra è moderno e ha aperto una porta che, purtroppo, i suoi allievi, maleducatamente, chiuderanno. E nel soffitto della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, realizzato qualche anno prima, Piazzetta ha sfondato lo schermo, si direbbe televisivamente. Dei frati, con i piedi sull'orlo, assistono alla grodia di San Domenico, non si sporgono per guardarci, ci indicano dove è lo spettacolo, sopra di loro, nella curvatura di un cielo luminoso, con nubi aspirate da un turbinio che risucchia gli occhi al centro. Una costruzione ardita che scioglie le figure nella luce, misteriosamente in questa attratte e confuse con una originalità assente in Sebastiano Ricci, in Veronese e nel trionfo del barocco. L'intensità dell'estasi di Teresa è immersa nell'azzurro ed il bianco crema delle nubi sembrano avvolgerla. Quanta semplicità nella modellazione fresca di Teresa rispetto alla irriverente ed ambigua scultura del Bernini. Dolcezza che mai vedremo in Diana, di bellezza sfuggente per quanto Dea, ed un velo di malinconia ci può stare. Se nel disegno scopriamo la mutazione della precisione naturalistica nel lirismo, in vibrazioni chiaroscure, impercettibili, aurorali, in Rebecca dimostra un equilibrio pastorale, quasi un canto pittorico. Nell'assunta, il valore atmosferico ormai alleggerito dall'azzurrità avvolge la vivace articolazione di ali ed arti sospesi in una danza aerea. A terra restano gli uomini, apostoli, fedeli, infedeli, stupiti, increduli, in un agitarsi di braccia che non li solleverà se non con la fede. A terra restano gli uomini,